Era meravigliosa, ma non era vincitore, ma era tanto bella. Grazie. Pensi che perché eri in prima posizione non era in vantaggio? No, non penso che anche vedere quella posizione. Penso che è stato fatto quello che si deve fare, il pubblico ha votato lei e quindi che vinca il migliore, no? Sì. Come ti senti adesso? Ma, a parte il fatto che, vabbè, nel senso è chiaro che ogni concorrente vuole vincere, bene, mi sento bene perché io sono andata sul palco, ho dato tutto quello che avevo e quindi mi sento serena. E qual vuole rimanere di questa perioda? Il tuo più bello momento? Il più bello momento? Sì. Stasera sul palco. Sul palco? Certo. Che era, qual è il seguito per te adesso? Ma io comunque ho brani, sto lavorando a un album e quindi vorrei pubblicare questo album quindi probabilmente sentirete presto ancora di me. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.